3, 2, 1, diciamo salve a tutti ragazzi, siamo su Global Games 3, 2, 1 Salve a tutti ragazzi, siamo su Global Games Ok, era cringe, metti la in bianco e nero, adesso fate una cosa Salve a tutti ragazzi, siamo Max, oggi siamo in un video di Global Games Dimmi cosa devo fare Rebix non ha mai giocato a grani, quindi in questo video giocherà a grani per la prima volta E poi c'è anche Seb No, Seb Allora, come si gioca? Allora, metti su Play Modalità Easy Ok Ti lascio con la nonnina Ok, qualità medium va bene Va bene Poi? Metti avanti Click Click Perché è scomparso la schiena? Day 1 Oh, che figo! Ci sono più giorni? Hai 5 giorni per scappare da casa, della nonna Ah E come passano? Oh, c'è un tetto Ok, da qui in poi mi può prendere? Sì Cos? Da adesso in poi mi può prendere Ah, da adesso anche? Cioè, lei in questo momento? Se vai, spuola da di sopra, ti apri la porta Vai destra Allora, tu non mi dici cosa devo fare Come? Non hai mai giocato? Faccio quello che voglio Oh, prendi, prendi Oh, questa è buona Ho una chiave Una chiave Ma non vedo nulla Dov'è il so... Oh Ah, sono sicuramente arrivato di sopra? Ai 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 Allora Qui c'è un bel quadro No Ho visto la nonna Come hai visto la nonna? Se fai rumore Ogni rumore che fai la nonna ti sente Quindi sta sento Adesso vai a sinistra Ah No, no, attento, può arrivare Non farlo cadere Non farlo cadere Vai là Dove c'è la porta? Oh Ok, aspetta Attento Vai dritto Quella è la porta Tu devi scappare da lì Ah, ok, ok Vai a sinistra Attento che la... Ecco Qui Sì Adesso? Salgo di sopra Salgo di... Ecco, la nonna è lì Te vai qui sotto il letto Muoviti Come? Veloce, sotto... Sotto il letto Cosa è qui? Non ti dovrebbe avere Aiuto, sono sotto... Vabbè Questo sono più un... Un pezzo di cemento con del tappello Oh Oh Arriva Ma dov'è, Bibi? Ma sai cosa hai lì? Ma sicuri ti chiedi, avevi? Sì, credo Ok, vai subito a destra Tic Appena Tu non mi vedi, vero? Tu non mi vedi Dov'è? Oh, oh, oh Vai Apri quella porta a destra Questa Tic Vai a sinistra No, vabbè Aiuto, ho paura Vai su, ci sono le scale dietro di te Fammi chiudere Ci sono le scale dietro di te Come si chiude? Troppa la chiave, troppa la chiave E sali le scale No Sali le scale, muoviti No, a sinistra, a sinistra No No Ah Ah Ah, sta arrivando la nonna Ah, qui è le scale Bravo Clic 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 Non girarti No E vabbè, ma io non sapevo Tu manchi l'auto, basta che Tieni la direzione Puoi anche girarti Ok, aprila Tu c'è una porta Aprila Bello Guarda nei cassetti cosa c'è Guarda, sempre dall'ultimo Ah Perché così Quella no, no, non può arrivare Perché è vecchio Ecco l'età Ok, non c'è niente Ok, e l'altra c'è un'altra porta Beh, beh, questo l'ho visto, eh Bravo Cioè, non c'ho mai giocato Ma non c'ho così niente Oh, bello, un manubrio And the wheel And the wheel Ecco, scendi da quella botola Sto attento, aspetta Mer Aspetta, adesso arriva la nonna Eccola Via No, no, no Cosa fai? Ma Ah, c'è anche il boom Ok, appena riso la nonna Ah, appena riso Attento No, attento Porco dudu Là, là In quella porta c'è la camera della nonna Non pensare Ah, no, no Ma è il nonno che dormono Là, dietro la finestra Oh Uh Ma che E io vado sotto la terra Allora, qua si stanno il nonna e la nonna Con i piedi nudi La notte Dormono Ah, bella roba Allora no Allora Che cosa abbiamo? Qui abbiamo Un gabruzzo Ci sono dei cassetti dietro di te Ok, passo dal basso Abbiamo detto Oh Tac Ecco, ecco Venga dopo Oppure la chiave del cugino Oppure l'ipon key Se c'è una cosa nei cassetti Non c'è neanche Non c'è neanche un'altra Ok Va bene, va bene Questo man Questa Vuoi ammazzare prima la nonna Vuoi alzare il coso della porta? Voglio alzare il coso della porta Allora Vai di sotto Stati attento se la nonna sta qui Ok Vai avanti Vai Dove sei spawnato Ti ricordi? Sì Di sotto, di sotto C'è una botola Non prende la nonna Ah no, questa era quella di prima Ma cavolo è pieno di trappole Eh, la nonna è cattiva No, no, non le mette Non le mette Chiuditi Allora, qui c'è un'altra ruota Mettiti No Non prenderla Ok Mettiti sotto al letto Perché forse è fatto Ricciardo, sai che quella ruota è quella di Per il salto? Per la barca Per il timone Quella che è la nonna è solo per la barca Non la vedo arrivare Sento il rumore elettricificato No, questa è la nonna che ha una mazza più potente Ah ok Come ci passi qua? Come ci passi qua? Ci passi da Ah Critto io sotto al letto Porco dudu Però è buono che non ti ha visto Eh grazie a cavolo non mi ha visto Dai cosa devo fare? Passare Vai a destra Adesso vai a sinistra Muoviti Ah Oh no 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 Oh 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 Ma cosa? Dai Mi hanno sbattarellato la faccia Apri lì nel piano Siano forte Finistra No Hai fatto rumore Oh oh ma cosa? Perché ho fatto la calda? Non c'è sì No 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 Sì Accovacciati Accovacciati Mi accovacci Complimenti No Corretta Sponsa dudu Guarda, ci sono i testi ovunque Ciao, ciao zia Ma dai, ma mi ha smentrato Perché? Allora, avevamo detto Ma secondo Regnino, noi cosa dobbiamo fare? Stare in questo scantinato a vita? Esattamente Lei si vuole, boh, tenere In questo scantinato? Perché? Il gioco del cavolo Il gioco del cavolo Il gioco del cavolo Il gioco del cavolo Grazie a tutti. Grazie a tutti.